A parlare il deputato Micillo, pregone a facoltà. Presidente, colleghi, la mozione odierna arriva al capolineo di un ciclo di atti parlamentari promossi dal nostro ingresso in Parlamento ad oggi. Per far luce al tempo stesso richiamare l'attenzione su un dramma, nemmeno tanto invisibile, rappresentato lo sversamento, legale, permanente e continuativo di rifiuti di ogni tipo, ai quali viene dato fuoco. Questo avviene ogni giorno, ad ogni ora del giorno e della notte, in un particolare territorio che, mani senza scrupoli, hanno notoriamente portato in tutto il mondo col nome di terra dei fuochi. Con questa espressione si indica l'area che va da Ritolare Domizio-Flegreo, l'agro a Versano-Atellano, l'agro a Cerrano-Nolano e Vesuviano, fino alla città di Napoli. Con la nostra presenza abbiamo inteso portare in queste aule i fiumi dei roghi, che divampano i territori sfregiati dalla mano degli uomini più interessati ai soldi che alla salute umana. Questa è la nostra terra. Qui siamo nati e qui vogliamo vivere. I roghi sono la soluzione più semplice per malfattori ed evasori, ma pure la più pericolosa e dannosa che rimettono in circolazione nell'aria i rifiuti bruciati, sotto forma di letali particelle, che entrano nei polmoni e nel sangue, si depositano sulla pelle e restano nei capelli in modo nocivo e con conseguenze gravi, sulla salute degli abitanti, donne e bambini, nascituri o anziani. L'inquinamento non fa distinzione, colpisce tutti. Per non parlare della catena alimentare, ivi compresa con l'agricoltura, gli allevamenti. È la morte dello Stato, il trionfo dell'illegalità, una condanna per gli abitanti, per l'economia, la terra, l'acqua e l'aria. Dalla terra di lavoro alla terra dei fuochi, inquinati, bruciati, rovinati sul piano economico. Questi impegni contenuti nella mozione, fate conto che non ve li richiede il Movimento 5 Stelle, ma 4 milioni di persone. La gente attende una risposta forte dal Parlamento, in merito alla questione. Non la vuole fra tre mesi, ma adesso. Alla compromessa situazione ambientale, alle patologie presenti, si unisce la mancanza di lavoro. Quando si parla di quel territorio, compreso dalle province di Napoli e Caserta, che più ormai chiamano terra dei fuochi, si sta utilizzando, purtroppo, una definizione molto riduttiva nei confronti della gravissima emergenza ambientale, che da decenni di abitanti di queste terre, un comprensore che con circa 4 milioni di persone, rappresenta una delle aree più densamente popolate. Pagando spesso con la vita, l'unico colpo è di essere nati in una terra tanto meravigliosa quanto preda di un mostro a tetteste. Ma la politica, camorra e imprenditoria deviata, che lunghi anni di assalti l'ha ridotta ad un ammasso di ceneri, veleni e morte, che quotidianamente minaccia una bellezza che, nonostante questo, si rifiuta di cedere il passo. Negli anni successivi, con il continuo estendersi di numero di siti interessati della provata contaminazione da sostanze tossico-nocive, come diossine, PCB e metalli pesanti, trovati nelle varie matrici ambientali, quel triangolo è andato defilandosi fino ad assumere una forma dai contorni indefiniti, che sfiorano quasi per intero il territorio campano. Un territorio che, proprio in queste ore, continua a mostrare le profonde ferite inferte da lunghissimi anni di abbandono e di degrado, sul quale ha proliferato a ritmi vertiginosi quel grande business del traffico dei smaltimenti illeciti e dei rifiuti, provenienti da ogni angolo d'Italia, che proietta costantemente la Campania in testa alle degradatori dell'ecomafia. Una condizione che, dopo gli ultimi tre anni di cui questi fenomeni sono andati avanti in maniera intensiva e assolutamente incontrollata, coperti da un primente coltre di silenzio e omertà, nei mesi recenti ha visto finalmente riflettori di grandi media nazionali e internazionali. Un dramma che più volte è stato paragonato è un vero e proprio genocidio. Ma la gente in questo territorio comincia ad essere stanca anche di questo. I morti e i vivi di queste terre non ci stanno a fare la parte dei fenomeni da baraccone. Qui la gente chiede di tornare a vivere nell'assoluta normalità la propria vita, come avviene in qualsiasi altra parte d'Italia. E se questa richiesta potrebbe suonare strana a qualcuno che ancora non ha avuto modo di toccare con mano il disastro e si chiederà cosa sarà mai questa terra dei fuochi, triangolo della morta o come volete voi, basta superare il Garigliano e raggiungere il famoso litorale Domizio. Un'ampia fetta del territorio campano che parte dal litorale Domizio-Flegreo e raggiunge le appendici del Vesuvio, una piaga sanguinante. Basta fare un giro lungo le spiagge Castelvolturno, che aggrede un paesaggio che oggi presenta il conto con abitazioni che stanno letteralmente disintegrando sotto l'azione conciuta dell'erosione e del cedimento delle fondazioni, prodotto da un fondo instabile a causa delle onde che, dopo aver divorato la spiaggia, terminano la loro corsa a ridosso delle case, scavando via la sabbia di sottofondo e riducendo i brandelli e le murature. Ma se gli edifici e le cementificazioni rappresentano il ramo tagliato su cui si reggeva l'equilibrio costiero garantito dalla presenza della duna e della vegetazione che proteggevano l'entroterra. L'altro aspetto, altrettanto devastante per l'economia del litorale, ma purtroppo meno evidente, agli occhi dei passanti è quello collegate dai cosiddetti laghetti artificiali, sparsi tra i comuni di Castelvolturno e Villa Literno, quelli di cui ha parlato un noto camorrista, le cui deposizioni, solo qualche giorno fa, siamo riusciti a desegretare dopo 17 anni. Trascorsi nel buio di un cassetto e di un territorio che ha pagato le conseguenze. Numerosi specchi d'acqua dissimilati tra i campi coltivati, poco oltre la fascia costiera, nati a seguito degli scavi con cui le imprese collegate ai clan camorristici reperivano materiale per confezionare il calcestruzio, che ha dato l'infa alle infrastrutture e alla mega speculazione edilizie di stampo campano. Scavi che, dopo l'esaurimento della capacità di estrazione, gli stessi clan hanno ritualizzato per seppellire decenni di versamenti illeciti rifiuti. Che la calmata continuava, hanno creato una miscela micidiale di veleni che lentamente si è riversata nei campi circostanti, compromettendone seriamente la capacità e la qualità produttiva. Un rischio che fino a poco e più di un anno fa era rimasto racchiuso in quelli che più a ripresa sono stati ritenuti nient'altro che veneggiamenti di associazioni ambientaliste impegnate sul territorio, ma che da alcuni mesi ormai si sta rivelando tutt'altro che infondato. Da circa un anno, infatti, i media stanno raccontando la triste realtà dei numerosi ritrovamenti di sostanze altamente tossiche, di provenienza industriale, interrata non solo a ridosso dell'editorale, ma anche nelle campagne di Caevano e di numerosi siti compresi dalle province di Napoli e Caserta, la cui presenza, in seguito a diverse indagini compiute, anche dall'OMS in collaborazione con l'ISS, è stata riscontrata sia in alcune culture che tradizionalmente campeggiano in questi territori, sia nei terreni stessi su cui la coltivazione sono realizzate sia nell'acqua di diversi pozzi presenti nelle nostre zone. E dire che queste verità erano scritte nere su bianco già nelle 260 pagine del cosiddetto rapporto Balestri. La consulenza tecnica eseguita nel 2009 dal geologo Giovanni Balestri per conto della Procura di Napoli sui terreni della cosiddetta area vasta di Giuliano, quella della Resit, della Nuoambiente, di Taverna del Re, quelle terre dove 70 dei nostri parlamentari lo scorso 5 luglio hanno potuto vedere e sentire cosa fosse il disastro, che volta avesse, lo hanno guardato in faccia come non mai. Tuttavia, l'allarme, quello forte, quello scatenato dall'eco di riempente del flusso di notizie, sui ritrovamenti nei campi di Cavano dei mesi scorsi, ha prodotto l'unico effetto negativo che poteva, quello di indebolire la già approvata economia di un territorio che annovera numerose eccellenze del Made in Italy nel settore agroalimentare. Un mercato che, con i suoi 13 marchi DOP e le 9 IGP registrate dall'Unione Europea, tra i quali figurano prodotti come la mozzarella di bufala, la pesca bianca napoletana, le fragole, l'estradinaria milanurca, occupa i vertici anche delle gradatorie internazionali dell'economia agricola del nostro Paese. Ci si renda conto, una volta per tutte, del fatto che i prodotti di queste terre arrivano a tutte le tavole degli italiani e nel mondo. Questo non lascia spazio a egoismi territoriali o all'indifferenza di parte degli italiani verso questa realtà. Se quindi è nazionale il problema che spinge il consumatore a chiedere alla provenienza del prodotto, la tracciabilità di certe specialità acquistate fuori dalla Campania o anche in Campania o nello stesso territorio dei fuochi, allora nazionale deve essere l'impegno nel far comprendere che non tutta la Campania è la terra dei fuochi, che solo una parte contenuta dei terreni è rimasta vittima dell'avvelenamento e dei roghi tossici che purtroppo continuano ancora oggi. E di questa mattina la notizia che un noto marchio di pomodoro conserviero ha promosso una campagna pubblicitaria che è sintesi di un emblema di quale conseguenze psicologiche sta generando il problema della terra dei fuochi. Le note le manifesto si legge che detto marchio utilizza solo pomodori freschi coltivati nel cuore della pianura padana. Sulla pagina Facebook, l'azienda precisa e i recenti scandali di carattere etico-ambientale che convolgono produttori ed operatori del mondo dell'industria conserviera stanno muovendo l'opinione pubblica generando disorienteramento nei consumatori verso questa categoria merceologica. Il Consorzio Casalecco del Pomodoro e il Brand sono da sempre contrari a totalmente estranei a pratiche simili, privilegiando una comunicazione chiara e diretta con il consumatore. Per questo motivo l'azienda comunicherà sui principali quotidiani nazionali e locali ribadendo i suoi valori e la sua posizione in questa vicenda. Non si può e non si deve riversare tutto nel calderone del sospetto. Sospetto che poi, a pensarci bene, cozza fortemente contro i diversi tentativi di esemplificazione azzardati da fior di ministri di questo e del precedente Governo, che a più riprese hanno cercato di addurre cattivi stili di vita o dell'eccesso di fumo, quello delle sigarette, il drammatico stato di salute di una popolazione che da oltre dieci anni vede le percentuali di persone che si ammalano di tumore. Spesso in giovane e giovanissima età crescerà a ritmi vertiginosi. Più volte in questo modo si è cercato di girare intorno alla ricerca di quel famigerato nesso di casualità tra inquinamento da rifiuti e effetti sulla salute, che sta da un lato viene ignorato per la mancanza di volontà di cercarlo, dall'altro potrebbe dare molte risposte ai tanti cittadini che giorno dopo giorno rifiutano l'idea che la sovrapposizione di due gravi emergenze, ambientale e sanitaria, che affliggono questo territorio siano solo il frutto della coincidenza. Un rifiuto che li spinge a chiedere nient'altro che l'applicazione di un principio molto semplice, come quello di massima precauzione affinché si accerti questo collegamento e si dia una volta per tutte giustizia a un territorio ormai terrorizzato anche da una barale colpa di tosse. Troppi genitori vivono nell'ansia che un raffreddore del proprio piccolo possa celare patologie ben più gravi. Da qui parte lo slancio di cui è chiamata oggi la politica. Lo sforzo che la terra dei fugi e tutta la Campania oggi ci chiede è quello di fronteggiare il deregliamento totale di un'economia che non può vedere compromessa la parte sana di una produzione agricola di eccellenza a causa di quella minata dal forte effetto dell'inquinamento, come un noto programma TV apportato alla ribalta di recente. Da qui la grande svolta di avviare sin da subito il monitoraggio dei flussi di rifiuti industriali verso la Campania attraverso l'attivazione del Sistri predisporre misure necessarie ad arginare realmente il fenomeno degli sversamenti dei rughi che ogni giorno appestano l'aria effettuare un monitoraggio di tutto il territorio individuando i suoli non idoni alla produzione del cibo realizzare la tutela e la messa in sicurezza dei terreni che in questo marasma riescono ancora a godere di buona salute mettere a punto forme di aiuto economico per chi dovesse essere costretto a non produrre più sui propri campi recuperare i suoli inquinati e le falde con ogni tecnica che la scienza già oggi metta a disposizione in termini di bonifica spingere affinché si possano utilizzare i fondi confiscati alla camorra restituendo in questo modo il maltolto al territorio insomma fare in modo che quel lembo di terra compreso tra i vulcani di Rocca Monfina è il Vesuvio e Campi Flegrei che nonostante tutto resta la più fertile area del pianeta ritorni a essere la Campania Felix grazie grazie onorevole Micillo ha chiesto di parlare è scritto a parlare il deputato Rai